Io credo che la deve smettere però Posso dirti che hai un umino carino sulla spalla Penso che è un po' lui, pensate Sì ho capito, non c'entra niente Anna adesso Al momento non c'entra Al momento c'entra che tu sei 5 minuti zitta E poi ti lamenti che dici una cosa e non ti sente nessuno Adesso per favore cerca di ricollegarti agli altri Perché stai essendo fastidiosa, va bene? Va bene, farò del mio meglio No, stai parlando male, stai borbottando e non va bene Facciamo una danza dell'amicizia Puoi riprovare Anna, grazie Adesso che partiamo mi riprendo Anche perché non hai nemmo motivo di offenderti Io ti avevo sentita ma non c'era niente da rispondere a quello che avevi detto Eh, questa è un'affermazione importante Questa è davvero disarmata È vero, avevi detto che non avevi parlato perché ancora non Perché eravamo in partita e io ho detto cosa devo rispondere E ho detto che avevo provato ad entrare ma non c'era più spazio E io che ti devo rispondere, devo dire Adesso ci nascondiamo